ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale io sono federica e non ho voce come si può intuire però ci tenevo a continuare a pubblicare i video quindi sto facendo veramente il massimo in questo video vi propongo tre idee makeup per le feste ho cercato di abbracciare un po tutte le colorazioni che preferisco e credo che siano le più utilizzate e ho cercato di essere appunto di dare tre varietà di makeup se vi piacerà qualche makeup in particolare vi invito a farmelo sapere nei commenti io vi lascio al video se vi va di supportarmi lasciate un like e iscrivetevi al canale inoltre vi aspetto sulla mia pagina instagram la donna qualunque io vi mando un grosso bacio e vi lascio ai tre makeup completi di questi tre makeup abbiamo realizzato una base uguale per tutti e tre ci vediamo a fine video ciao 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 bene queste sono state le mie tre proposte per quanto riguarda queste feste ho voluto essere classica sì ma non troppo perché io stessa non amo vestiti troppo diciamo classici non credo che indosserò insomma quest'anno vestiti super super classici quindi ho voluto dare un po' tre proposte diverse spero che vi siano piaciute io vi ringrazio per aver guardato il video come sempre vi mando un bacio gigante ci vediamo al prossimo video da Federica la donna qualunque